cui c'è un approccio culturale di questo genere, la discrezionalità dell'azione penale può aprire voragini terribili. Con un'ulteriore considerazione, negli Stati Uniti hanno sempre avuto storicamente alternanza delle amministrazioni, due anni, otto anni, cioè quattro anni, otto anni, massimo dodici, poi cambia il colore dell'amministrazione. Noi non abbiamo avuto a lungo l'alternanza, da un po' di tempo abbiamo l'alternanza, ma c'è una differenza di fondo. Negli Stati Uniti quando c'è l'alternanza la nuova amministrazione va a controllare i misfatti della vecchia amministrazione, da noi si perdonano vicendevolmente e questo contribuisce a rendere pericolosa la strada dell'azione penale discrezionale, perché poi questa discrezionalità non potrebbe che avere un contenuto inevitabilmente politico. Come si fa a decidere quando si procede quando no? Per quali reati si procede? È una scelta politica, tolta l'obbligatorietà. E allora o si fa del pubblico ministero un funzionario che obbedisce agli ordini di un ministro, oppure se ne fa un organo elettivo, ma in un caso o nell'altro la scelta diventa politica. È compatibile con la cultura di questo paese, una cosa di questo genere? Ognuno può avere ovviamente, sono opinioni, uno è libero di pensare come vuole, io sono dell'opinione che sarebbe un altro salto nel buio. Allora come se ne esce a questo punto? Perché oltretutto l'aver cambiato la Costituzione ha vincolato il processo penale e lo ha vincolato ben oltre i limiti della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, con il 111, con la riforma dell'articolo 111. L'unico risultato che si è ottenuto è che oggi il processo penale è uno strumento sofisticato e costoso che dovrebbe essere usato solo per le cose serie. Ma noi abbiamo ogni anno 3 milioni e 400 mila notizie di reato, in ipotesi da trattare tutte. E questo non è gestibile, comunque non è gestibile con questo codice. Allora dobbiamo scegliere o abbandoniamo questo codice e non si può fare più perché bisognerebbe ricambiare un'altra volta la Costituzione, oppure bisogna drasticamente depenalizzare. Ma drasticamente vuol dire tagliare seriamente una serie di reati. L'ultima grande depenalizzazione, di cui credo fosse ispiratore l'allora ministro Flick, quella del 2001 se ricordo bene, ha depenalizzato un sacco di reati se posso fare qualche battuta, anche la sfida duello, che non era fra i casi statistici che riempivano i tribunali. Ma per esempio non ha depenalizzato il delitto di quell'articolo 462 del codice penale, falsificazione o alterazione dei biglietti delle imprese di pubblico trasporto. Sembra una cosa orrenda. Sono quelli che cancellano con la gomma il biglietto della metropolitana e lo timbrano un'altra volta. Quando io ero in appello impazzivo perché per un biglietto da un euro facciamo tre gradi di giudizio. Adesso un euro e mezzo. Siccome di solito chi fa queste cose è un disperato, è comunque frequentemente irreperibile, il suo difensore è pagato dallo Stato. E spendiamo circa 3.000 euro dei contribuenti di onorari al difensore. Quando ero in appello mi trovavo appelli fatti anche decorosamente perché se li fanno male sono inammissibili poi non prendono l'onorario e in cui dicevano ma chi è che ha detto che questo biglietto è stato cancellato? I controllori dell'azienda trasporti, ma perché sono dei chimici i controllori dell'azienda trasporti? Vogliamo fare una perizia per sapere se è vero che questo biglietto è stato cancellato? E allora il giudice si trova nell'alternativa se buttare altri 1.500 euro dei contribuenti, oltre ai 3.000, fare una perizia sul biglietto per vedere se è stato cancellato? Oppure scrivere 5 pagine per dire che non è necessario fare una perizia? E mi trovavo a pensare ma se potessimo fare che do io un euro all'ATM e la smettiamo? Ma purtroppo non si può fare sempre per via dell'azione penale obbligatoria. Ecco mi chiedo, si può usare un processo in cui è necessaria l'assunzione della prova in contraddittorio per fare cose di questo genere? No, bisogna depenalizzarle, ma bisogna sfoltire il 90% dei reati che ci sono, altrimenti non se ne esce da questa situazione. Da 40 anni, perché poi il problema è antico, più del doppio del codice, io vedo che si continua a rincorrere l'incremento del contenzioso aumentando la produzione. Io mi sento come un giocogliere che aumenta il numero delle masse o delle palle ogni giro finché mi cadranno tutte in testa, perché non ha senso. Abbiamo raddoppiato i magistrati, il personale amministrativo e le risorse finanziarie in 40 anni per la giustizia. Oggi l'Italia spende più o meno come la Gran Bretagna, quindi non è vero che c'è un problema di risorse, le spende male, ma l'ordine di grandezza è quello. Ma il contenzioso è triplicato. Paradossalmente oggi i tribunali stanno in piedi per la loro inefficienza. Se da domani diventassero efficienti si scaricherebbe una domanda di giustizia, oggi sommersa, che li paralizzerebbe in poche settimane. Quindi c'è anche da aver paura a renderli efficienti. Nel civile, perché c'è gente che non fa causa, pur avendo un diritto violato, perché sa che ci vogliono dieci anni oggi per avere una sentenza. Se da domani i tribunali pronunciassero entro sei mesi, tutti ricorrerebbero al giudice. Nel penale, perché inevitabilmente, stanti 3 milioni e 400 mila procedimenti, vengono trattati molto male. Se diventassero efficienti, più efficienti ancora le procure e gli uffici, probabilmente anche questi processi andrebbero a giudizio e determinerebbero un numero ancora più rilevante di dibattimenti. Allora, la questione è, abbiamo iniziato una strada pericolosissima. Possiamo continuare, abbiamo una lunga tradizione di pervicacia in questo Paese nel persistere negli errori, a volte per secoli. Però forse sarebbe opportuno fermarci un attimo a riflettere e decidere che cosa fare. Grazie. Grazie.